Si è svolta presso l'aula consigliere del comune di Cerignola in provincia di Foggia un incontro organizzato dalla scuola media Paroncelli con il patrocinio comunale dell'assessorata alle politiche giovanili, dal titolo Il pericolo del web per un approccio consapevole ad internet. L'avvento rientra nel progetto prevenzione al contrasto a bullismo e cyberbullismo di cui è rapperente la docente Rosanna Palumbo. Sono intervenuti l'avvocato penalista Antonio Maria Lascala che è anche Presidente dell'Associazione Nazionale Penelabro che si occupa di persone scomparse ed assistenza ai loro familiari. Il dottor Michele Orlando, segretario regionale delle SIULP, presenti le classi che hanno partecipato al progetto con i loro lavori che hanno messo in evidenza il loro forte attaccamento ad approfondire questa tematica ed anche la sua pericolosità. Mimmo Siena, speciale news dell'aula consigliare di Palazzo di Città, Cerignola, Foggia.